Sono Claudio Contigliani della Next Domus, sono qui alla Crestron University, un momento molto importante per noi custom install per venire a conoscenza di prodotti nuovi e soprattutto avere delle informazioni sia a livello commerciale sia a livello tecnico per dare un servizio sempre maggiore ai nostri clienti. Lavoriamo sia sul residenziale che sul ricettivo, quindi sicuramente i prodotti che sono stati presentati oggi ci danno una grossa mano nel costruire dei pacchetti per poi andare a proporre ai nostri clienti i clienti finali. È la seconda volta che veniamo qui alla Crestron University e ripeto, è sicuramente interessante perché si sta costruendo un partenariato tra custom install su tutta Italia. Ringrazio Crestron per questa opportunità che ci sta dando.